Giovedì 12 novembre prendere il via a Rende la non edizione della rassegna I Tini di San Martino del Vino Novello del Meridione, una manifestazione organizzata dal Network Venti Divini con il patrocino del Comune di Rende Assessorato al Turismo. Siamo riusciti a far ritornare questo bellissimo evento sul Vino Novello ed è una bellissima cosa perché poi fondamentalmente bisogna tenere in considerazione quelle che sono le realtà produttive della nostra terra, della nostra Calabria. Rende si pone come città evento e siamo contenti di questa scelta, di questo ritorno. La manifestazione che si svolge presso la Ria Hotel e terminerà domenica 15 novembre, vede sabato come la giornata più importante dell'evento in quanto una giuria di esperti dopo una degustazione alla cieca decreterà i migliori vini novello del Meridione del 2015. A seguire avverrà la premiazione dalla presenza dei rappresentanti del mondo associativo di settore e istituzionale. Stanno crescendo quelle attività che credono fortemente nella qualità del prodotto. Il vino novello, anche se è una realtà poco conosciuta, comincia sempre più ad entrare in quelle che sono le attività di ristorazione perché apprezzate dai clienti. E fortemente deve essere la vicinanza dell'amministrazione e degli organizzatori affinché le realtà produttive credano sempre più in questo prodotto che è un prodotto d'eccellenza.